Sì, no, anche ieri sera è stata una bella serata, il tributo a Pino Daniele, abbiamo avuto il gota, diciamo, degli artisti italiani che sono 20 anni. Io parlo di pagina di storia, perché ieri tutti quanti dicevano artisti e organizzatori che mai nella storia della musica italiana ci sia stato un evento con tanti artisti così numerosi e così di livello alto nel ricordare un artista scomparso. Quindi ho avvertito la grande potenza di Pino, la potenza della sua musica, la potenza della città, ma anche l'energia che ormai tutti colgono nella nostra città. Dallo Stadio San Paolo con 45 mila persone, poi l'evento di ieri è andato in tutto il mondo, in tutta Italia con le televisioni e con le radio, quindi sempre di più Napoli cresce attraverso i suoi grandi e in questo caso attraverso la musica di Pino Daniele. Siamo molto contenti in generale per come è andata la serata di ieri, che non dimenticheremo mai. Cinque ore di concerto, di spettacolo, di arte e di cultura siamo entrati anche nella storia con questo evento di ieri.